Adesso parliamo di scuola con la possibile riapertura a gennaio. Intanto i sindacati lanciano ancora una volta l'allarme sul nodo del trasporto pubblico e ci sono possibili complicazioni che arrivano anche dalle motorizzazioni. Ci spiega tutto in questo servizio Maria Francesca Alfonsi. Ci mancavano solo le motorizzazioni e sono arrivate nel brindisi finale. Già perché in quello che i sindacati tutti, CGL, CISL, Wills, NALS, definiscono follia più che stilicidio, le motorizzazioni ai prefetti, Ancone Macerata per esempio, hanno scritto che ritengono inopportuno l'incremento di bus necessari da gennaio per il rientro degli alunni nelle scuole superiori al 50% perché congestionerebbero il traffico cittadino. Già, fremono di incredulità i sindacati perché la bara onda circa in tutta Italia, forse si rientra, forse no, scuola negata, la prima generazione nella scuola, nelle Marche è ancora più pesante. Non per i singoli istituti, ribattono i sindacati, pronti da settembre, sempre aperti, collaboratori all'unidisabile e loro volontari compagni, pronti nonostante le decennali classi pollaio, obbligate dal cuore romano, i decenti precari di pochi giorni che sostituiscono mai, come quest'anno, altri precari per pochi giorni. No, non si possono fare i doppi turni, spiegano i sindacati, non si possono obbligare i ragazzi a stare fino a tarda sera a scuola, nessuna mensa personaleata ridotto al minimo, chilometri da fare per entrare a casa nei paesi e poi quando studierebbero. Servono i bus, dateceli, chiedono i sindacati. Già, ma le Marche sono ultime in Italia per il borso governativo chilometro bus. E così, a parte la Scolano, dove le scuole superiori sono concentrate nel capoluogo e a San Benedetto, le scuole sono disperse in troppi rivoli e le aziende trasporti dicono che non hanno più mezzi oltre quelli messi già in campo e non hanno più soldi. E i bus privati o le camionette dell'esercito si attende all'intervento dell'assessore ai trasporti Castelli entro fine anno, a chiusura dell'anno crudele pagato soprattutto dai più giovani, negato loro il diritto all'adolescenza al diventare cittadini.